Lo sportello del cittadino decoro urbano si trova a Lama, zona via sentiero dei poeti e degli artisti, via Mughetto Cancello Rosso, un'iniziativa organizzata, patrocinata dal Rotaract di Taranto, un'iniziativa per bonificare l'aria, per rimuovere i vari rifiuti in collaborazione con Chima Ambiente Amio e ovviamente con il supporto di tante associazioni che hanno sposato l'idea. Siamo con Francesco De Padova del Rotaract e così mi hanno incuriosito vedere tutti questi cumuli di rifiuti, questi sacconi che voi avete riempito ed è il frutto del vostro lavoro, cioè di tutto quanto avete raccolto. Se da un lato c'è il rispetto e l'ammirazione profonda per quello che avete fatto, perché lo ripeterò fino alla nausea, fino alla noia, oggi potevate tranquillamente starvene a casa e invece avete deciso di amare la città con i fatti concreti, perché è molto bello dire amiamo Taranto e bella Taranto e poi stare comodamente sprofondati in poltrona di domenica, invece rimboccarsi le maniche non è una cosa semplice. Dall'alto però c'è la rabbia, il disprezzo verso chi evidentemente ha fatto a botte con la civiltà, perché lasciare questi rifiuti è proprio mi ha incuriosito vedere, facciamo un po' una disamina di quello che avete trovato. Qui in questo sacco c'è più che altro polistirolo, spugne che abbiamo rinvenuto in una bellissima grotta argillosa. Siete proprio come dire addentrati gli speleologi, dopodiché poi abbiamo anche differenziato inoltre i rifiuti. Qui c'è tutto il vetro, vedete le bottiglie? Ci sono anche altri sacchi del vetro ed è giusto che siano differenziate. Poi ci sono altri sacchi dove c'è di tutto, potete trovare da siringhe. Vedo forse qualcosa, materiale plastica, si vedono bottiglie, ci sono anche sedie, relitti di navi, di barche, ci sono veramente rifiuti di ogni genere. Vedo lì proprio dei rifiuti, dei resti di barche, materiale ferrosso mi pare di vedere, addirittura lì in fondo una sedia. Cioè il mare è evidentemente trasformato da qualche incivile o in una discarica. Non è solo frutto dell'uomo che viene qui, che butta i rifiuti, ma è frutto anche dell'uomo, di chi pesca, di chi scarica il mare. Dovrebbe invece avere rispetto da quella risorsa che gli dà da vivere. Sì, poi di molti rifiuti non sappiamo la provenienza, perché magari vengono dalla Calabria, da altre zone del Mediterraneo. Noi che abbiamo rispetto del mare, di questi luoghi fantastici, abbiamo deciso di fare questa bellissima inizia. Ora questi sacchetti, sacconi dei rifiuti raccolti sono qui, verranno rapidamente raccolti, verranno presi in consegna dai mezzi di Chima Ambiente Amio e poi verranno portati via per lo smaltimento. Quindi avvertiamo anche gli amici della zona che la, come dire, sosta è temporanea, è brevissima, non è certo una discarica dinanzi alle ville. Lo chiariamo. Assolutamente, non vorremmo assolutamente che fosse una discarica per questi fortunati signori che abitano qui. Qualche tempo di ore, forse un giorno e l'Amiu, già il Chima Ambiente Amio, provvederà con i propri mezzi. Grazie e complimenti. Grazie a lei, grazie. Grazie a tutti.